Benvenuti a una nuova edizione del TG7 Basilicata. Incidente sulla statale 175 che collega Matera a Metaponto nel comune di Bernalda. Un uomo di 66 anni è stato investito. L'uomo stava attraversando quando un'auto lo ha preso in pieno. Tempestivo l'intervento dei carabinieri e dei sanitari del 118 che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Deciso il calendario scolastico 2022-2023 per la Basilicata. Il ritorno tra i banchi di scuola è fissato per lunedì 12 settembre. Le vacanze di Natale dal 24 dicembre al 7 gennaio. Le vacanze di Carnevale dal 20 al 21 febbraio. Le vacanze di Pasqua dal 6 all'11 aprile. I ponti previsti sono il 31 ottobre, il 24 aprile, il 3 giugno. Ultimo giorno di scuola il 10 giugno. Il rapporto dell'Ispettorato nazionale del lavoro dell'anno 2021 conferma che l'irregolarità è diffusa in Basilicata. Su 2.268 ispezioni definite, 1.204, il 53%, sono risultate irregolari. La situazione più allarmante è nel comparto edilizia, con 803 ispezioni e 513 irregolarità, il 63,8%, a seguire l'industria con 52,6%, il terziario con 50,1%, l'agricoltura con 38,5%. Il tempo di domani. Tempo più stabile e con maggiori aperture. Nel pomeriggio isolati acquazzoni potrebbero interessare l'appennino.